...emozionanti, molto profonde. Oggi, giovedì 22 novembre, la chiesa ricorda San Clemente I, Papa Marti, San Germano Abate e Santa Felicità Marti. Oggi, giovedì 22 novembre, la chiesa ricorda San Clemente I, Papa Marti, San Germano Abate e Santa Felicità Marti. www.radiovaticana.vata, la chiesa ricorda San Clemente I, Papa Marti, San Germano Abate e Santa Felicità Marti. La chiesa ricorda San Clemente in Sardegna. ... Dopo questo accordo è stato incontro su l'Egypte di l'Egypte. Il testo prevo anche una migliore circolazione dei bianchi di persone tra loro strumenti e l'extruttore, senza più tanto parlare di una luce blocusa. Il papi e la ralitudine del governo general ha giusti libertà e le autorità dei due parti a prendere delle decisioni courageose a favore di la paese. Il presidente Udanzi, Udanzi e Congolese reclame la fin di l'offensive.